Professor Pregliasco, fino a che punto e in che termini è pericoloso questo incrocio, l'aumento dei casi Covid e dell'influenza stagionale? Allora, di sicuro stiamo assistendo a una stagione influenzale abbastanza vivace e ovviamente il Covid si è messo in mezzo e quindi incrementa il peso di quelli che sono gli effetti di malattia. Ben ha fatto il dottor Sanseverino a creare questo momento di open day perché è vero, questo Covid è meno cattivo del passato, anche perché la gran parte di noi ha acquisito un'immunità ibrida, cioè ci siamo vaccinati, infettati, però questo virus continua a modificarsi, è camaleontico. In questo momento io dico buonsenso, non dimentichiamoci del virus perché il virus non si è dimenticato di noi, e continuerà a circolare in modo anche molto perfido, diciamo così, proprio perché purtroppo essendo più buono del passato, causa tante infezioni, come dicevo prima, che mantengono una catena di contagio che poi trova la persona fragile e purtroppo gli sta dando e gli darà e gli potrà dare effetti pesanti di salute e di vita.